Ciao a tutti, è finalmente uscito l'Ambrata Experience, il nuovo disco di Sandro Tognazzi disponibile da oggi gratuitamente sul sito di Ben Camp all'indirizzo di sandrotognazibencamp.com L'opera vanta di ben 16 canzoni di sconvolgente musica elettronica le più belle canzoni di mezzo secolo Tra i pezzi che troverete quando tu mi abbia reso felice, Mandi dedicata a Amy Wenenhaus Quando tu mi abbia reso felice, Mandi Sei arrivata, Eda Il rock energico dell'ultima volta che vidi Parigi Rivello ancora Parigi La bella Parigi E sotto i cieli dici Il sonno d'amore Spinto dai ricordi Torno ancora in quel caffè L'esenzialità di congratulazione E poi ancora la ragazza Colmongomeri La conoscete la ragazza Colmongomeri Con quei capelli spettinati che fa ridere La psichedelica mia cara Luna Tu non sai che mi ha fatto Non torna più mia cara Luna Che farà nelle sere innamorate Dove andrò nelle notti disperate Chi versa il pianto sul mio racconto Sei solo tu Soltanto tu mia cara Luna E la commovete vent'anni Di cui avete forse già visto un video Un disco adatto a tutti Da ballare in estate E che contiene anche una nuova versione Moderna del classico papaveri papere Cosa aspettate? Ascoltatelo è gratis Lambrate Experience Grazie a tutti